Per concludere, io voglio dire agli italiani, il mio momento, non la mia performance, si dice così, perché me so un po' romagnolo, molto romagnolo, si sente come si sente. E quindi vorrei concludere con una canzone di nuova produzione, ringrazio per questo le edizioni musicali Enovalis, insieme alla Suonami, ma sempre comunque al mio fianco le edizioni musicali Casadei Sonora che non mi abbandonano mai nei miei progetti. Questa canzone è proprio una condivisione con la nuova generazione, perché io faccio questo mestiere da tanti anni e sarei davvero felice che il nostro folklore, fra l'altro la Romagna sta facendo tanto perché possa comunque essere candidata come patrimonio dell'UNESCO, perché ragazzi il nostro folklore è chi ce l'ha, è come la nostra piadina, il nostro pane quotidiano, è vero. E questa canzone è molto pop rock, quasi dance, la vorrei condividere con, perché l'Alessia è la nuova generazione, io non sono il passato, attenzione, sono il presente. Mettiamo le cose in chiaro, vero? Il passato, beh, il passato c'è stato tanto, però sono ancora qua, con quell'energia dei miei vent'anni, passati da tempo, ma la ritrovo come diceva prima Matteo Bensi, perché noi amiamo questo lavoro, perché grazie alla gente che ci vuole bene, perché la musica ci fa riscattare quello... Io dico, io so di non essere una grande bellezza, ma la musica, le canzoni, quando canto, mi fa sentire un bellissimo ciglio, cioè lo dico proprio, è una cosa che è indescrivibile, indescrivibile, davvero. Allora, sei pronta? Prontamente, sono pronta, sono felicissima di cantare dopo l'emozione che ci hai fatto provare prima, perché adesso passiamo in un altro mood, per dire una parola di te. Però vorrei veramente un forte applauso, perché su questo palcoscenico ci sono dei musicisti con la M maiuscola, è un grande privilegio aver cantato una canzone divina, posso dirlo, accompagnata dal grande Roberto Modesto e il grande pianista di Claudio Baglioni, grazie. Posso dirlo? Ragazzi, siamo nel mood, non fate la lagna e godeteli la Romagna, vai! Che fatica questa mia vita, tutti i giorni sempre uguali che sfiga, qualunque cosa ma è un problema, c'è chi sorride ma ti frega. Anche il mio lavoro mi stressa, guardo la tele e ogni notizia è la stessa, non ho più voglia di lottare, quanto mi manca oggi il mare. Un po' di pace non c'è, un po' di pace non c'è, il mondo è un grande ampeare, la confusione mi riempie la testa, non so cosa fare. Non c'è, un po' di pace non c'è, un po' di pace non c'è, non so cosa fare, non so cosa fare. Stai, vieni via con me, a risvegliare il tuo cuore, tra profumi e colori, di tradizioni lontane. E ti ritroverai, soltanto gente sincera, che con un grande sorriso, ti donerà l'allegria. E ti ritroverai, soltanto gente sincera, che con un grande sorriso, ti donerà l'allegria. E goditi la Romagna. Cara amica, io ti ringrazio, ma ogni giorno per me è sempre uno strazio, vorrei soltanto un po' dormire. E non provare a non pesare, un po' di pace non c'è. Il mondo grande alveare, la confusione mi riempie la testa, non so cosa fare. Non so cosa fare, non so cosa fare. Dai, vieni via con me, a risvegliare il tuo cuore, tra profumi e colori, di tradizioni lontane. E qui ritroverai, soltanto gente sincera, che con un grande sorriso, ti donerà l'allegria. E qui che il sole accarezza la terra e si stende sul mare. Forse hai troppe pretese, brighiamo col Sangiovese. Dai, non fare la lagna, e goditi la Romagna. Mamma mia, l'ho condivisa con Anna Maria Legretti, devo dirlo, perché mi fa molto... Io sono molto felice di condividere la musica, come prima con Matteo, ma questi giovani, no? Perché dobbiamo trasmettere questa nostra esperienza. Lei che è un grande padrone di casa, perché è patrono, non mi piace. Patrono? Patrono. Marina è lui il padrono di casa. No, secondo me sei in te. Io, casa mia. Casa tua, comanda lei, vero? Vuoi dire quello che vuoi, mi sei sempre d'accordo. Io davvero ti voglio ringraziare tutte le autorità presenti, non sta a me citarle perché non vorrei dimenticare qualcuno. Soprattutto voglio ringraziare te, che mi hai incluso in questo cast di grandi... Senti com'è, me la capo bene. Una certa classe, una certa classe. In questo cast di grandi artisti che rappresentano il mondo della musica da ballo, quindi non mi rimane che augurarvi una buona continuazione di serata, però fammi fare il mio saluto. Stavo per chiedertelo, stavo per chiedertelo. Se no, non stanno mica bene. Quindi vi auguriamo una buona continuazione di serata, una buona vita, dalla vostra amica Roberta Cappelletti, con quei soliti due P, due L e due T. Vado, ce la ce l'ho! A saluto pur te, stasi bene! Di più! Roberta Cappelletti! È una forza, è una forza per la Romagna, lei veramente è una roba... È una festa, lei è una festa.